comunque io mi aspetto in top 10 un giocatore coreano ma ieri sai che sono partiti bene? ieri sono partiti bene ieri sono partiti bene ieri sono partiti bene per me è Mongral Queen la ridacciamo una scommessa, ognuno di noi mette 5 euro su un giocatore che deve arrivare io sono Mongral Queen nessuno l'ha preso ieri ma puoi fare dopo le due Mongral Top 5 no, Top 3 Tfew io ero Mongral Mongral Issa 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 Io sinceramente non andrei io anche se vorrei votare a quando andrei su acqua ma andrei su un Dubs sai che? io sarei anche su quelli di ieri Dubs ieri mi ha sorpreso molto ma che mi era allucinante 5 euro su Dubs 5 euro su Dubs io io 5 euro su Mongral ma io quel bambino lo voglio Reggie io Benji Benji vai ce l'abbiamo tutti ce l'abbiamo così va bene ce l'abbiamo così usa il codice creatore FANATIC-POWER con il 3 al posto dell'E video e e e e e quindi andiamo a bere perché stanno per partire con il primo game si sono a breve la vorrei cominciare si sono abbiamo preso l'istante abbiamo preso l'istante let's go sta vedendo? lui continua Maceo niente ciao ovviamente riprendono di più non me l'aspettavo strano eh perché tutti quelli che avevano li volevano far vedere sembrava che era ieri Mongralbu non ci hai visto mai guarda come è vestito come fai a farlo vedere dai in chiara cassa gucci così ma è fra forza c'è la cassa ma è ancora meglio cazzo sono riuscito a farli mettere di tempo a riassinare il champion cioè tipo lui domani c'è a scuola domani c'è a scuola quando si è fatto le vacanze e ho vinto un milione e mezzo anche se si alza in piedi più alta la sedia si compro la sede vabbè io di altezza non posso parlare io io non sto zitto che è meglio però c'è ragione va bene rispetto alla sedia è un po' diverso sì sì no è vero ho la sedia a tre metri sono molti i giocatori minori è vero è vero è vero che avete già visto in live con me in passato ho fatto un talk show se ti vuoi presentare per chi magari non ti conosce o giusto per chi ti conosce quella è la telecamera che c'è qua quella è la telecamera yes bella raga io so cari secco i rapper Matteo youtuber se vi ricordate ero già passato da Giorgio nel talk show mi ha fatto il talk show assieme quanto tempo fa era? era l'estate scorsa era l'estate scorsa un anno è passato è un anno è un anno è un anno e ma vabbè tra l'altro c'è la maglietta da twitch quindi già puoi dire eh perché io lo so oggi ne abbiamo parlato e poi vado assieme poi se non ti hai fatto una live si ho fatto una prima live venerdì perché infatti quando sei qua tra l'altro iniziato a streamare cosa fai? ancora devo decidere non sai ancora cosa vuoi? ho fatto la prima live perché volevo uno spazio mio per parlare perché comunque ero stanco delle instagram stories cioè 15 secondi per dire le cose non lo so magari ragazzi io comunque ho 35 anni raga cioè magari ragazzi ai 19 sono già nati con questa impostazione del cervello io sono un po' prurisso quando parlo quindi volevo proprio uno spazio due ore per poter dire un concetto in due ore poi ho chi vuole si guarda quello chi vuole si guarda gli estratti però volevo parlare con i miei follower poi non lo so quello che succederà vediamo un ragazzo un ragazzo un ragazzo hanno fatto un loro tipo cosa ha fatto? l'ha preso dietro il muro sta nascendo l'idea di creare scusa cioè non sono una per eh succedono cose oh ragazzi mamma mia che stross tossico lo sai perché? ma no no ha switchato oh madonna ma chi l'ha fatto? eh ma quell'arma come li stanno traccando in testa madonna una cosa incredibile se fai trac a S fa 42 42 42 eh sì oh 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 gli ha pisciato in testa che l'ho fatto? cioè preso muro edit muro scala in faccia e qua pingan tutti uguale quindi qua è tutto timing per replaceare fine esattamente raga io qua oh ma lui perché se copri così? partiamo andando via e non savi editare mi dicono no scarsi no 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 che cazzo eh ma lì perché magari vado ad avere una velocità c'è lo strafing no? perchè su phonenet non c'è lo strafing veloce ah ve lo spacca tutto quindi frega no free eye free eye eh c'era un free eye che l'ha perso sei kill bug top apri tutte le top bello ma fa bomba 3 oh ah ricamera sembra lo vinto ti prego ti prego 1 1v1 raga sta fa il disatto 8 kill cioè fa 20 punti in una esatto se killa e ah regalo questa ora comincia a stare sopra a stecca 3 c'ha anche più vita c'ha anche più vita ma mazza come sta a messo c'ha 3 impulso lo ce la può fare c'ha più vita c'ha 3 impulso in a jump può farcela eccolo eccolo pazzo furioso si è fai folle no ha fatto bene però apri ha preso like no no bravissimo questo ragazzi c'è un che vuoi parlare che chi inglese una calmata ragazzi non so chi sia ma chi cazzo è su night e poi ma chissà chi ha dei mostri non fa fra fra che devi fare oh vabbè non l'ha fatto però apprezziamo 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 solo l'idea in mezzo secondo di pensare a fare impulso e benji pistol è bello sono qua siamo a vincenzo senti devi fare qualcosa ma l'interrogazione almeno parlava tanto c'era bravo all'interrogazione perché io ho proprio messo a parlare vicino a marza vedi se sono che poi sembrano guarda nel secondo sembrano tipo fratello il fratello maggiore drogato lui è quello di pulito il saluto bello e sghere guarda guarda ha preso la top ha preso la top ah perché è morto buca ragazzi ha preso ammo e munizioni e roba varia oh è in diretta in diretta a snosci buca era sotto però e mi è andato la picconata dentro la scavola che merda sopra le montagne è la seconda di fila che finisce regà è seconda non dovrebbe non dovrebbero mai andare le zone troppo sopra una montagna troppo punitiva oh mio dio che cazzo di riflessi regà ho smitto è morta vado a una kill è morta quanti sono dieci attenzione sono top oh mi entrava dentro non riuscivo a mirare non puoi mirare esatto a 90 gradi non puoi mirare non puoi mirare sopra la tua testa oh 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 vabbè regà sei kill eh sei kill eh ragazzi già perché sopra i si vede river santerino ah la domanda già è in un altro 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 grande dubs raga però come se l'hai giocata da sotto strategico ma io lo voglio dire adesso che non c'è Giorgio ragazzi i soldi creati per fare tutto questo sono i suoi nessuno gliel'ha obbligato nessuno gliel'ha imposto è stata una scelta sua perché ha voluto far capire che in Italia si può collaborare si può far bene ed ha creato tutta questa cosa da solo insieme alla creative che è la gente che voi non vedete che è fuori campo che sta lavorando da quattro giorni in Italia interrottamente però per farvi capire quanto siano importante queste cose e quanto magari dall'altra parte della telecamera non ti accorgi pensi che siano puttanate ma non lo so ma figato pensi che sia cioè le dai per scontato capito non che pensi che siano puttanate ma le dai per scontate cioè come se fosse già tutto così esatto morti fatti no mostro eh sento non è detto come va quello bravo Simon Moghera è mostro si è ammazzato quindi no 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 è morto perché lui ha giocato bene io giù mi ricordo la camminata a Milano posto bravo bravo vanno vanno vincenze vanno 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 che c'è vuoi parlare senti questa cosa che ti ho raccontato pure a te era il mio progetto finale proprio quello per cui voleva arrivare avere la possibilità di avere una casa studio come magari per i face per i come si chiamano quelli che fanno tutti i trick con le cose lanciano e lanciano le cose così e fanno il palestro ma voglia vengare no? si si one shot più perfetto più perfetto più perfetto più perfetto avere un luogo che non è solo casa ma anche studio ed essere là dentro non solo con i gamer avere un rapper avere uno stronzo come il masseo una scimmia come marza avere un pro player capito? è quello il mio obiettivo ed è per questo che io ho fatto questo abbiamo detto va facciamoli i fanali ci hanno aiutato guarda che è un game di cristo si 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 assurdo quanti sono? 32 rega ma cosa? al second moving? che stai a dire? 32 rega ah il primo moving però il 32 rega allucinante così tanto guarda tutte le star surgi che che partono eh guarda a me qua non è mai partita una tempestagione e tornai parto il LAN è così guarda buga epilettica ovvio quanto gli è data prima che finisci del tempo se con una volta di un inferno di 28 quanto di 27 quanto dura? a volte le due cerchi vanno alla fine vanno all'ultimo 4 minuti 4 minuti perché poi si fida tutta la pagliatura 24 minuti e 45 secondi circa sicuro è tutta poi di più non può durare certo oh mongran ho parlato ma perché non mi faccio i cazzi? è morto mongran te l'hai chiamato cazzi c'è clix che sta bene ragazzi allora appena rifanno lo zoom out faccio un nome vedrai vedrai ma buga come fa a muoversi ora? una ricaricata oh valerione si ma sono tutti uno sopra l'altro può camminare può camminare sulle build oh cattivo ha preso i maz no a costo di prendere danni maz c'è full maz c'è full maz ma non non c'è tolena oh buga se fa bene questa è prima cioè lui è già primo davvero su un sacco di set cioè dice se prende diventata se fa bene questa assurdo l'ultima praticamente ce l'ha regalata fa già l'ha fatta bene questo tocco 7 la faccia l'amano qua è grazie 3 milioni però dice che se vince questa probabilmente ha vinto secondo me no no se vince questa basta che vince ne fa altre due minimo cioè ne fa altre due minimo si dice arriva nei primi dieci con il nostro ha vinto la vinter mondiale oh shit è un delirio no è un delirio ma tornare ma tornare una fregatura pensava di non trovare oh eh combat combat contro guarda guarda ci sta combat contro contro nonno non ha senso ma quello sarebbe spostissimo o un bumpy o sei morto esatto o fai 200 e mica madonna quello che mi ha fatto il piano è sempre lì sotto se Pika fa il bravo ha vinto e invece ha deciso di uccidersi no ma che è il piano che era solo per la tua figlia no era sigaro quello che era stato tornato pensavo che stava era l'unico full vita Pika ha deciso di scendere ha deciso di scendere che è un po' più merdo comunque che merdo coatto che è c'è chi fa basi come è fatto come in solito giochi competitivi non puoi essere inore ciao raga a me sai che c'è un figlio da 11 anni che ti è in bocca a casa contro il mio c'è stava trappando la bolla vuoi fare ora è stracompine ora è stracompine ora sta a fare l'altro ma che ha già vinto però in realtà non lo scopri che sono loro perché si mettono il nome nascosto quando ti ammazza c'è scritto tipo utente anonimo però questo ti fa capire la mentalità sua in realtà non capisci solamente se lo stai a guardare cioè tu guardi quale giorno che gioca e nel frattempo giochi e c'è stanno due o tre cose che ti fanno capire che sei entrato nella stessa partita ma lo andai vedendo se no non sta bene non so niente in off ma quello è stata la seconda zona e ha vinto pure oh 17 punti questo scavalca a botta lui scavalca a botta si 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 ma l'espero scavalca da 50 e vincere 2-20 si però è è uguale cioè ragazzi è un po' anticlimatico questa vita ma quello che ti sa dire lui torna a casa e gioca a Fortnite ma mi provate è successo qua ormai già lo sapevo ma mi ha provato come a casa questa finale questa è già molto più gasata ci stai neanche capendo un cazzo però mi lascia reaction rispetto a quella che ieri è incredibile è perché stavo concentratissimo tiramolo sta per piangere ragazzi questo è il ragazzo quello che ha fatto è salito è salito ragazzi è bravo è arrivato il primo dei punti ragazzi non si è spazionale non si è spazionale non si è di un mio di ma crio quando tu esci così ma questo è un app questo ci sta regà dai qua un applauso ci può stare qua un applauso ci può stare così lui sapeva già di aver vinto ha fatto questa reaction ieri l'ora è sicuro e umile eh non ci starei anche credendo non vedi proprio dalla faccia che dice codi 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 te lo cazzo vai ora questo era il suo tweet dell'epoca dell'avvento 2018 28 ottobre 2018 è incapibile quello che Fortnite può fare alle persone non vedo l'ora di poter fare 16 anni congratulazioni a tutti quelli che hanno partecipato al Twitch con perché non è stato manco il tossico contro Fortnite no vabbè è la standard dei videogiochi raga sopra i soldi non si può giocare pensa pure tipo ai genitori dei tuoi cino che l'hanno fermato quindi ragazzi vi ringrazio a tutti ma la serata non è finita vediamo dopo l'ultimo che arriva il nabbo se vola